ehi ragazzi ciao a tutti da nick e bentornati qua su ark survival evolved ragazzi guardate ci troviamo di nuovo diciamo così nella zona di pienura dove ho preso il giganotosauro praticamente perché perché dobbiamo prepararci per il prossimo animale raga praticamente voglio voglio una viverna ed è qui che prendiamo insomma sia l'uovo di viverna e sia il latte di viverna perché la viverna non si può addomesticare quella adulta bisogna prendere l'uovo lì c'è un bel giganotosauro selvatico raga bisogna prendere l'uovo di viverna e poi e poi insomma con l'uovo praticamente raga gli diamo da mangiare e quella viverna poi diventa nostra qua c'è solo un mucchio di schifezze va bene quindi ragazzi praticamente devo creare beh la casetta qui già ci sta questo piccolo punto di spawn già qua ci sta quindi per il momento qua va più che bene oltretutto quel giganotosauro almeno non è poi vicino vado anche a recuperare ragazzi il frigo così praticamente lo metto dentro la casetta nel caso nel caso dovesse servirmi ok pare tutto tranquillo allora vieni con me che ti sposto dentro alla casetta così così ho tutto in un punto unico perché praticamente diciamo che l'uovo una volta raccolto dura 8 giorni se non sbaglio ma il latte di viverna dura poco quindi prima devo prendere l'uovo e poi il latte ma ovviamente il latte non è facile da prendere perché mi serve una gabbia la viverna non mi dà il suo latte senza lottare quindi insomma bisogna fare un paio di preparazioni prima allora questo lo metto qua se ci entra ma si dai ok c'è tutto quello che mi serve ho anche portato un focherello che lo metto qua nel caso nel caso nel caso dovesse servire lo metto qua fuori scusi ok ragazzi allora dobbiamo costruire quindi devo costruire cavolo ho dimenticato una cosa mannaggia ho dimenticato a casa mi serviva mi serviva un mega portone ok mo ci procuriamo raga anche il necessario per creare il cancello potevo portarmelo da casa solo che l'ho dimenticato mi serve un po' di metallo e soprattutto quel giganotosauro è un problema per me lo sta oltretutto raga eppure di livello 50 meglio di quello che ho preso io che maschio femmina maschio quello che ho a casa eppure maschio se non sbaglio credo non ne so più sicuro eccolo qua un po' di metallo ma tu guarda lo sta per il metallo e manco l'ho visto direttamente dove c'ho diciamo sta piccola casetta non l'avevo proprio visto ovvio no? ero girato da tutt'altra parte a terra un po' ok allora ragazzi quindi mi serve ok eccola qua bella fucina legno questo accendi facciamo una piccola scatola che occupa meno spazio ci teniamo dentro un paio di oggetti ovviamente è importante quindi vediamo un po' dove la metto la metto qua sopra tanto chi me la deve distruggere no? vabbè mettiamola dentro ma? no ma però non c'entra niente qua dentro ah la posso mettere per terra? e allora ok mettiamo questa qua e che ci devo mettere dentro mo? per ora niente però poi si si ovvio ecco cosa ci devo mettere dentro ci devo mettere dentro che praticamente mo raccogliamo un po' di risorse e quindi le mettiamo dentro la cassa ecco quindi cominciamo a raccogliere un po' di cose e riempiamo in piccola parte la cassa con tutte quelle cose necessarie per la per la creazione della gabbia oggi dobbiamo creare una gabbia quindi raccogliamo le risorse necessarie ok ho raccolto un bel po' di legna mo vedo se trovo un po' di pietra qua in zona così così riempiamo anche la cassa diciamo di pietra ok allora togli questo togli questo bene praticamente mo raga vediamo un po' credo che posso creare questo smiti ci volevano 5 blocchi di questi 5 lingotti ok allora questo per terra purtroppo non si può mettere a meno che non lo piazzo mo qua vabbè non è che io abito qua quindi va bene pure così allora qua dentro mo dobbiamo creare ragazzi il mega portone di pietra tanto la viverna non può rompere la pietra quindi dovrebbe essere questo legna 450 paglia 450 allora eccolo qua allora crea uno e poi ci vuole questo 450 450 450 crea uno perfetto allora 4 kg pesa questo e 4 kg niente ed è enorme va bene fatto ciò ragazzi sta arrivata la notte però vabbè non fa niente possiamo andare raga possiamo cominciare a costruire la gabbia ma dove la famo sta gabbia dove dove dire che la faccio qua sotto anche se lì ci sta il tizio ma mi sa che mi conviene farla qua perché se muoio se muoio mi butto da lì sopra e arrivo subito mi conviene credo proprio che e poi la sotto è pieno di animali aggressivi qua invece è più tranquillo mi conviene proprio qua qua c'è più tranquillità qua per lavorare è perfetto allora devo quindi creare una bella gabbietta no? per l'uccellino quindi come fanno? l'entrata ovviamente la mettiamo dalla parte della montagna più o meno andiamo qua ed ecco qua il mega portone ok guardo che non si sa mai se arriva qualche cattivo mettiamo questo allora questo si apre in automatico se non sbaglio c'è un modo di dire eccolo qua delay ti chiudi dopo 10 secondi quindi teoricamente mo se io mi allontano rimane aperto per 10 secondi dopodiché si chiude da solo quindi quando io arrivo poi con la viverna cattiva il portone si apre entriamo tutte e due e dopo 10 secondi si chiude il portone così anzi quasi quasi raga mettiamo 5 secondi perché tanto voglio dire è più che sufficiente 5 secondi va bene fatto ciò e mo viene la parte più complicata allora mettiamo gamma a 4 perché non si vede niente mo viene la parte un po' più complicata dobbiamo creare la gabbia ovviamente abbastanza alta vediamo un po' e soprattutto deve deve passarci lui e non deve passarci la viverna quindi pensate un po' pensate un po' ah c'hai un livello andiamo di resistenza eh sì perché mi serve che deve poter volare un bel po' lui ormai con i livelli siamo un po' messi malino sale molto lentamente allora dammi questo dammi questo allora di qua ci passo io ma la viverna non ci passa di sicuro non dovrebbe praticamente però facciamo anche il tetto mi serve come distanziatore ok allora grazie al grifone penso che riusciamo ecco a piazzare in alto il soffitto vediamo se riesco a piazzare no niente sempre col grifone devo fare che non ci arrivo ok e ok allora fammi una prova raga perché di preciso non so deve passarci il grifone se io lo piazzo qua se mi riesce ovviamente il grifone ci passa ok il grifone ci passa spero tanto che poi non ci passa la viverna teoricamente la viverna è ben più grande del grifone quindi teoricamente teoricamente va bene teoricamente parlando oh finalmente sta tonnando il giorno che di notte non si vede una cippa la legna so sempre vuoto io ma non c'ho mai niente allora andiamo naturalmente ragazzi un bel po' in lunghezza andiamo oh so salito di livello andiamo raga un bel po' in lunghezza perché la viverna è parecchio più lunga del grifone cioè il grifone alla fine era una trappola piccola ma la viverna famo una trappola decisamente più grande allora livello saliamo di peso perché non ce la faccio mai vediamo un po' che cosa ho sbloccato qua ah l'arco composto un arco ad alta tecnologia e lega durevole può lanciare frecce ad alta velocità ok però non lo sblocco perché comunque i punti si ne ho ma non troppi quindi per non sprecare punti inutilmente lasciamo stare per ora ok perfetto oh guardate raga il vulcano sta eruttando boh di fatti notavo il cielo parecchio scuro è il vulcano che bello raga è veramente bellissimo oltretutto io dovrei andare nella zona del vulcano ecco vabbè meglio perché c'era caldo dai anzi ne possiamo approfittare visto che piove perché dovevo andare nel vulcano a vedere se ci sta zolfo mi serve zolfo per per fare il sale il sale ci servirà più avanti per conservare il latte della viverna perché ovviamente quello marcisce e quindi è importante vabbè lasciamo perdere il portale andiamo a dare un'occhiata raga andiamo a dare un'occhiata al vulcano mi conviene che me tolgo i vestiti però dice che sto congelando in realtà in realtà tra un attimo ecco le fatti qua manco piove addirittura è impossibile comunque mi serve un po' di zolfo fatemi da un'occhiata perché non l'ho mai raccolto in vita mia non hanno in realtà non sta eruttando o non ancora non ancora non ancora però notate che è un parecchio acceso visto che è nuvoloso e quindi ho pensato penso che pensavo che stava eruttando però vedete che è bello attivo allora vediamo un po' ormai che siamo qua se trovo sto benetto zolfo raga forse che è questo speriamo vediamo se è zolfo lui è ottimo finalmente oh si raga credo che il vulcano sta eruttando vedo fumo altissimo sicuramente era in fase iniziale ma credo che è stata una bella fortuna che che sta eruttando ora e non prima perché non ho pensato ovviamente che magari butta della lava butta qualcosa addosso potevo rimanerci decisamente scottato quindi tutto sommato è andato andato bene così ok possiamo raga i cosi come si chiamano possiamo un paio di cosette allora sto zolfo per ora non mi serve lo possiamo ok allora la legna quella è importante la paglia pigliamola pure la pietra la passo a prendere qua sotto e continuiamo a costruire penso proprio che il grifone si fa sempre più importante allora io penso che allungo 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 ancora un po' ancora un pizzico allunghiamo perché la vivenna è parecchio parecchio grande ed è meglio evitare di rimanerci fregati ok ok io penso che così può andar bene allora uno di questo uno di questo un bel pilastro quindi lo mettiamo qua ma praticamente raga è ovvio che chiudo ma ragazzi chiudo a girare devo chiudere quindi ci becchiamo non appena chiudo ok ragazzi allora sono a buon punto ma c'è un problema una cosa a cui non ho non ho pensato e praticamente ovviamente il tetto richiede altri pilastri quindi li sto a mettere così e teoricamente parlando dovrebbe andar bene ovviamente la viverna dovrebbe più o meno incastrarsi qua nel centro speriamo allora devo mettere altri due pilastri qua in modo tale che riesca a mettere un po' un pezzo di tetto perché se no qua sono guai dovrebbe andar bene spero raga dovrebbe uno qua uno qua ok proviamo un po' con il tetto creiamo un po' di soffitto no perché mi manca la dannata pietra tu non è che hai pietra mi ha fatto la cacca in faccia ma proprio guarda ma sei così ma fai proprio poi così piccola la fai ma non ti vergogni allora raga e mi incastro comunque non è necessario tappare tutti i buchi l'importante è diciamo togliere il grosso perché ovviamente la viverna non può passare da un singolo buco quindi cioè se faccio così teoricamente dovrebbe andar bene pure finché è solo un buco non è un problema non dovrebbe uscire da un singolo buco cioè o comunque ci proviamo col grifone ma speriamo di no mi serve un po' di legna ne ho raccolto già un po' dammi della legna allora vediamo un po' famo un paio di sti cosi quindi quindi mo li mettiamo qua li mettiamo qua e vediamo un po' se riusciamo a togliere un po' di sti buchi ok allora ho un pilastro dove caspita lo metto io lo vado quasi quasi a mettere qui accanto alla porta tanto cioè arrivato a sto punto era un po' è inutile fare tutta sta grande effettivamente a che serve aver fatto tutto così grande vabbè ok non lo so manco io se ho fatto bene a fare le cose così oppure no perché è la prima volta raga e non lo so neanche io spero che ho fatto una trappola funzionante poi o è economica o non è economica e vedi di qua non ci entra vedi non ci entra dai dal singolo buco non ci entra quindi va bene è obbligatorio però tappare quanti più buchi possibile ok proviamo ad uscire da qua ok non riesce ad uscire perfetto quindi dal soffitto se non esce il grifone figura di la viverna se non riesce ad uscire il grifone la viverna non esce di sicuro quindi teoricamente dovrebbe andar bene io con la viverna entro qua dentro in questo modo io esco di qua e la viverna teoricamente rimane incastrata lì si spera che funziona perché se no è difficile togliersi da dietro una viverna comunque non è finita qua ragazzi ma mi serve mi serve un altro paio di cose mi servono come si chiama le foundation le fondamenta di pietra stone foundation 5 si facciamo 5 foundation perché perché la viverna sputa fuoco veleno elettricità quindi voglio creare una barriera che mi protegge dalla viverna quindi più o meno la vado a mettere qua questa barriera mettiamo una bella barriera qua allora questo lo mettiamo diciamo qua e poi mettiamo ragazzi i muri qua perché perché così protegge sia me e protegge pure il grifone che è qua dietro quindi facciamo una barriera contro al fuoco e quello che insomma sputano queste viverne e io da qua gli tiro le frecce i narcotici quello che è gli sparo da qua alla viverna perfetto l'altezza penso che va bene per evitare i colpi buono quindi penso ragà che ci siamo per quanto riguarda la trappola ora andiamo a cercare un po' di sale uno dice vai in spiaggia no il sale lo troviamo vi dicevo se ve l'ho detto dalle ossa degli animali ah fammi una cosa prima vado a svuotarmi un attimo qua l'inventario perché se no non camminiamo più siamo troppo pesanti quindi possiamo qua un paio di cose che se mi servono le trovo allora un attimino che svuoto l'inventario ok inventario quasi quasi completamente vuoto raga quindi salutiamo la trappola per il momento penso che nel prossimo gameplay poi la usiamo allora devo andare nella zona più o meno ho visto dove si trovano ste ossa stiamo cercando le ossa giganti aspetta se non sbaglio è da questa parte che ci vado credo ma vediamo comunque eccolo la il giganotosauro salutatelo eeeh giga io sono passato davanti come se niente fosse se mi dava un morso mamma mia raga forse che mi toglieva mille di vita perché quelli selvatici i dinosauri selvatici fanno parecchio male molto più male di quelli domesticati e questo è di livello 50 una cosa pazzesca allora speriamo che non incrocio una dannata viverna perché se no so cavoli là ce n'è una mannaggia questo è il posto più brutto in cui parcheggiare ma niente sceglie i posti più belli per voi raga i posti in prima fila per lasciarci le penne ovviamente allora viete qua che fa un caldo incredibile ok raga non ho trovato ossa in giro a parte quelle là sotto speriamo che speriamo che si possono rompere magari ecco aspetta guardate ce l'ho direttamente fuori casa questo osso qua teoricamente è lui da sale o no no eh cavolo vediamo quelli più piccoli no cavolo mi sa che allora non sono questi perché ho letto che insomma ci stanno delle ossa che danno sale ma queste qua no queste non sono figlie sono ossa finte vediamo se troviamo un po' di sale purtroppo non ho mai visto come è fatto insomma non so come sono fatti sti posti dove si piglia il sale vediamo un po' se c'ho del sale qua scriviamo sa ah ok un pochettino ci sta dai vabbè raga niente da fab sale preservato non ne ho però comunque un po' di sale ce l'ho quindi riusciamo comunque a a farcela va bene ragazzi per il momento mi fermo qui quantomeno la gabbia ce l'abbiamo abbiamo una piccola casetta più o meno pronta ho anche trovato un po' di zolfo quindi almeno un po' di sale preservato riusciamo a crearlo ragazzi mi raccomando non mancate nel prossimo gameplay se è tutto va bene magari riesco a prendere un uovo di viverna ragazzi vi saluto quindi ciao alla prossima